I tecnici hanno scelto il nuovo ospedale, si farà a Muraglia. Omofobia, stalking, estorsioni, giorni turbolenti a Pesaro. Il teatro sperimentale applaude la prima di Benelli su Benelli. Zamagni, economista di Papa Francesco, si racconta a Rossini TV. Il teatro sperimentale applaude la prima di Benelli. Le 19.40, poi lo ritroverete in replica alle 20.40. Questa sera apriamo parlando di una notizia cruciale per l'edilizia sanitaria ospedaliera. Il comitato tecnico istituito da Regione Marche e Comune di Pesaro per valutare dove costruire il nuovo ospedale di Pesaro ha completato oggi la sua relazione mostrando di preferire il sito di Muraglia. Vediamo tutto in questo primo servizio. Muraglia vince su case bruciate. Il costruire sul già costruito vince su un'area vergine edificabile. E infine prevale la volontà espressa più volte dallo stesso sindaco Matteo Ricci. Dopo meno di dieci giorni di valutazioni, il gruppo di lavoro tecnico istituito fra membri della Regione Marche e del Comune di Pesaro per l'individuazione del sito del nuovo ospedale di Pesaro ha concluso oggi i suoi lavori. La relazione tecnica finale prodotta consiste in un elaborato di dodici pagine in cui sono riportati analiticamente i punti di forza e di debolezza dei due siti di case bruciate e di muraglia analizzati secondo quattro parametri di valutazione, ovvero qualità e funzionalità sanitaria, sostenibilità ambientale e urbanistica, costi dell'investimento e tempi di realizzazione. Una serie di parametri che ha visto prevalere la scelta di muraglia per avviare il nuovo masterplan di edilizia sanitaria ospedaliera. Muraglia ha vinto 3 a 2 su case bruciate mostrando vantaggi prevalenti su qualità e funzione sanitaria nonché sostenibilità ambientale e urbanistica. Case bruciate è stata preferita alla voce costi di investimento mentre è stato un pareggio alla voce tempi di realizzazione. Sul piano dei costi infatti, a seguito delle ottimizzazioni possibili nell'eduare per la realizzazione del nuovo ospedale, nel sito di muraglia emerge una significativa riduzione del costo totale che scende fino a circa 150 milioni di euro mentre rimane pressoché invariata la stima di 140 milioni di euro per il sito di case bruciate. Case bruciate manterrebbe un vantaggio economico immediato dovuto principalmente alla perdita del valore patrimoniale degli edifici oggetto di demolizione nel sito di muraglia. Un vantaggio che però viene ridotto se analizzato a lungo termine in funzione della valutazione dei costi emergenti derivanti dall'avere due sedi in luogo di una nella città di Pesaro e dalla differente distanza di due siti dall'ospedale Santa Croce di Fano. Restano alti i contagi da Covid-19 nella nostra regione Marche 138 i nuovi casi registrati oggi di cui 15 nella provincia di Pesaro Urbino ma su un numero di tamponi molto elevato 4.106 che da un lato abbassa la percentuale di contagio ma dall'altro alza l'incidenza a 72 casi settimanali ogni 100.000 abitanti. Si contano però due ricoveri in meno di ieri ora sono 92 di cui 23 in terapia intensiva oggi ci sono stati tre decessi un uomo di 70 anni di Serra dei Conti una donna di 89 anni di Servigliano e una donna di 91 anni di Porto San Giorgio. Ed ora passiamo alla cronaca sono state giornate intense per le forze dell'ordine alle prese con episodi di omofobia, stalking, tossicodipendenza e distorsioni storie che vi raccontiamo in questo servizio realizzato da Edoardo Orazzi. Giornate turbolente e movimentate sono queste le ultime ore complicate appena trascorse nella città di Pesaro e Vallefoglia. Ha dello sconvolgente infatti quanto accaduto sabato in Viale Fiume ad una ventenne che dopo aver confessato ai propri genitori di essere lesbica se li ha ritrovati di fronte in un agguato appena uscita dal lavoro. La giovane in realtà si era data appuntamento con la fidanzata che la stava aspettando in macchina ma è proprio mentre ha aperto lo sportello che è stata aggredita alle spalle dal padre afferrata prima per i capelli e schiaffeggiata poi per ben due volte. Oltre che fisicamente la ventenne è stata aggredita verbalmente perché ad urlarle contro di tutto ci ha pensato la madre che come il padre non ha accettato l'omosessualità della figlia. Per fortuna della ragazza ad assistere all'episodio è stato il portiere dell'hotel Due Pavoni che è andato incontro alla giovane accompagnandola all'interno dell'albergo per proteggerla. I genitori in un primo momento sono stati bloccati fuori con la minaccia che se fossero entrati l'hotel non avrebbe esitato a contattare la polizia. Poi però la ragazza ha provato ad avere un dialogo solamente con la madre ma una volta che è entrata nella hall dell'albergo ha inveito nuovamente contro la figlia. La donna è stata nuovamente allontanata e alla fine in aiuto della giovane pesarese sono arrivati gli amici che l'hanno scortata e accompagnata in un luogo distante dalla presenza dei genitori. Altro episodio di stalking è avvenuto nelle notti scorse a Montecchio dove un 26enne originario della Romania è stato arrestato per violazione degli obblighi di dimora e rapina impropria del telefono ai danni della ex ragazza. L'uomo, che aveva già avuto due querele per stalking si è recato nei pressi dell'abitazione con un taxi il quale, attendendo in strada ha assistito a sua insaputa alla vicenda tra i due. Il molestatore è dapprima entrato in casa della donna con un mazzo di chiavi che aveva ancora in possesso e una volta dentro ha intimorito e strappato dalle mani della ex il cellulare dal quale stava chiamando i carabinieri. L'uomo è poi uscito dall'abitazione correndo e dirigendosi verso il taxi per poter fuggire ma vedendo quanto accaduto il taxista ha contattato immediatamente le forze dell'ordine che in pochi minuti si sono recati sul posto arrestando il giovane. Vicenda complicata anche a Pesaro dove ieri è stato condannato a due anni e otto mesi di carcere un giovane pesarese per estorsione ai danni della madre. Il ventenne, finito nell'abisso della tossicodipendenza avrebbe da tempo assunto dei comportamenti sempre più aggressivi nei confronti dei suoi familiari. Numerose infatti le estorsioni nei confronti di madre e zia minacciate di danneggiamento auto e di impedimento nell'uscire dalla loro abitazione se non gli avessero dato i soldi richiesti. All'ennesimo episodio però hanno deciso di denunciarlo e per il ventenne, che era già in carcere a Villa Fastigi per aver rapinato un anziano nel novembre scorso è arrivata la seconda sentenza. Altre notizie di cronaca che ci arrivano dall'entroterra cominciamo da auditore dove un 24enne operaio del posto ed incensurato è stato arrestato dai carabinieri per un'intensa attività di spaccio di cannabis. Dopo una serie di appostamenti militari hanno infatti perquisito la bisnazione dove è stato trovato mezzo chilo di marijuana e 52 grammi di hashish. Ma soprattutto il ragazzo è responsabile di una coltivazione di piante di marijuana in un campo vicino al proprio domicilio. Incidente stradale questa mattina nel territorio comunale di Monte Cerignone dove un'auto ha perso il controllo ed è volata in un diruppo sottostante. Sono intervenuti i carabinieri di Carpegna e il 118 che hanno trasportato un ferito in ospedale in codice rosso. Allevatori delle aree montane ancora sotto attacco dei lupi. L'ultimo episodio si è verificato due giorni fa a Peglio dove un pastore ha trovato otto pecore sbranate mentre due ferite sono sopravvissute e riaggregate al gregge. Gli animali si trovavano al pascolo quando i lupi hanno attaccato evitando l'intervento dei cani. Addio alla voce di Romagna Mia Edgardo Gelli è morto ieri all'età di 87 anni in seguito a un incidente stradale che ha visto il cantante e musicista investito da un SUV guidato da un 76enne di Fossombrone in zona Bivio-Borzaga di Fermignano città dalla quale il romagnolo Gelli da anni era stato adottato. Le immagini che vi mostriamo si riferiscono ad un'intervista rilasciata da Gelli a Rossini TV lo scorso luglio. Gelli lavorò artisticamente per anni fianco a fianco di Raul Casadei e della sua orchestra. È sua la voce incisa su Romagna Mia un autentico inno che ha fatto il giro del mondo. Gelli è morto all'ospedale di Urbino due ore dopo le ferite riportate in un incidente avvenuto sotto una pioggia battente e in un tratto stradale scarsamente illuminato. Arrivano importanti novità di riqualificazione in chiave turistica per i borghi delle Marche grazie alla legge regionale approvata ieri. Il Consiglio regionale ha approvato la legge per la riqualificazione e valorizzazione dei borghi. Dal 2022 7 milioni e 800 mila euro verranno così riversati su riqualificazioni edili e urbanistiche destinate ad apparecchiare progetti per un turismo diffuso e sostenibile. Lo abbiamo sempre detto è necessario tornare a insistere e a impegnare risorse e tutti i nostri sforzi a favore delle aree interne e di quanto di più straordinario questa regione ha cioè quel patrimonio immenso fatto di borghi, colline e centri storici. Noi vogliamo quindi che il turismo ma anche l'economia marchigiana del prossimo futuro si concentri su questo patrimonio. Dopo una revisione dell'emendamento che ha visto la soppressione del limite dei 15 mila abitanti la legge è stata approvata all'unanimità da maggioranza e minoranza. Noi condividevamo fin da subito l'obiettivo di valorizzare dal punto di vista socio-economico e i borghi storici la loro promozione e sostanzialmente quindi su questi obiettivi ci ritrovavamo. Avevamo proposto alcune modifiche al testo della proposta di legge la gran parte di queste modifiche degli emendamenti sono stati accolti rimane una legge che ha uno scarso finanziamento complessivo ma ci riteniamo soddisfatti per questo abbiamo votato a favore dopo un buon lavoro svolto sia in commissione che in aura. L'approvazione all'unanimità silenzia dunque alcuni sospetti di penalizzazione alla provincia di Pesaro Urbino avanzati nei giorni scorsi da parte della minoranza. Non esiste nessun tipo di penalizzazione è già la seconda o terza volta forse che sentiamo sempre uscire con toni roboanti e sinceramente incomprensibili l'opposizione sostenendo che con un provvedimento o con l'altro viene danneggiata e penalizzata Pesaro alla provincia di Pesaro tutto ciò non è assolutamente vero perché la legge sui borghi è una legge fondamentale di questa giunta che caratterizza l'attività di questa giunta del presidente Acquaroli c'è stato un testo che è uscito dalla giunta che è andato in commissione come avviene con tutte le leggi è andato in commissione in commissione l'hanno analizzato hanno analizzato il problema del vincolo del limite dei 15.000 abitanti si era deciso comunque sia già dalla commissione di provvedere a rimuovere questo comma che prevedeva praticamente si cerca sempre di creare dei problemi delle tensioni su cose che non esistono quindi bene così verrà provata senza nessun limite nessuno ha intenzione di penalizzare Pesaro la provincia di Pesaro dopo l'iniziale opzione di acquisto di un imprenditore senigallese lo scorso ottobre l'hotel Cruiser di Pesaro è tornato all'asta e ad aggiudicarselo è stato Nardo Filippetti l'attuale proprietario degli hotel Excelsior e Nautilus si aggiudica dunque anche un altro degli alberghi più noti e grandi del lungomare per la cifra di 6.750.000 euro Grande, grandissima partecipazione ieri sera al teatro sperimentale per la prima pesarese del film Benelli su Benelli l'epopea motoristica di Tonino Benelli in una produzione cinematografica made in Pesaro ha ricevuto l'applauso dei suoi concittadini Ci si era disabituati a cinema e teatri strapieni ancora meno si era abituati ad applaudire un film che racconta una grande storia a pesarese con pesaresi davanti e dietro la macchina da presa Benelli su Benelli è la pellicola che dopo la presentazione in anteprima alla mostra del cinema di Venezia ha ricevuto lunedì sera l'applauso di Pesaro nella sua prima al teatro sperimentale un docufilm realizzato da Genoma Films che racconta l'epopea di Tonino Benelli l'ascesa del marchio Benelli e della tradizione motoristica pesarese sono molto emozionata questa sera di essere qui a Pesaro che è la mia città natale ed è la città natale di Tonino per cui proprio questa sera è il massimo dell'emozione per me sono presenti tante persone che sono state importanti per la realizzazione di questo progetto emozione di una Marta Mignucchi presente alla prima dello sperimentale assieme allo staff di produzione e al cast capeggiato da Alessandro Gimelli un pesarese che interpreta il protagonista così come pesarese e anche la sceneggiatrice Anna Paola Fabri siamo due donne che hanno accettato e accolto la sfida di raccontare un mondo maschile il mondo delle moto e dei motori degli anni 20-30 del novecento per cui insomma un periodo sicuramente più al maschile che al femminile con una famiglia la famiglia Benelli che è stata sempre tanto importante per Pesaro sia nel periodo di Tonino Benelli che insomma ha potuto esprimere il suo talento portando quindi alla notorietà il marchio pesarese così come insomma tutti i suoi fratelli che hanno potuto anche loro esprimersi per fortuna dopo lo sperimentale Benelli su Benelli sarà trasmesso in questo mese di novembre anche su Sky Cinema non è solo un racconto pesarese è un racconto di Pesaro delle Marche ma dell'Italia in generale è un po' un racconto di quel periodo storico molto bello a livello estetico anche spero di averlo reso bene nel mio film ho avuto dei collaboratori bravissimi come il direttore della fotografia Marco Ferri fondamentale vedrete che nella parte di fiction c'è tanto tanto bel cinema e scenografo Marco Scarpa bravissimo la costumista Magda Coltigil anche lei bravissima e poi tante partecipazioni di Pesaro anche perché le interviste vedono protagonisti la nipote di Tonino Benelli così come il professor Paolo Sorcinelli e poi naturalmente il film è dedicato alla memoria del professor Paolo Prosperi anche lui presente nelle interviste nel film e poi la giornalista Elisabetta Ferri non voglio dimenticare nessuno a questo punto li dico tutti gli intervistati e anche presenti nel film e anche Paolo Marchinelli direttore del Museo Benelli Sabato 13 novembre saranno trascorsi 153 anni dalla morte di Gioacchino Rossini per celebrare questa ricorrenza il Comune di Pesaro promuove un appuntamento al Museo Nazionale Rossini dove alle 18 il pianista Alessandro Marangoni presenterà il CD che porta a compimento dopo più di 10 anni di lavoro il monumentale progetto rossiniano Complete Piano Music Il cofanetto di Marangoni infatti è ad oggi l'unica versione integrale al mondo di tutta la musica da camera di Rossini e sarà pubblicato il 26 novembre Domani 10 novembre alle ore 21.20 su Rossini TV potrete vedere uno speciale dedicato all'appuntamento Geocom Incontra tenutosi all'hotel Cursal di Cattolica nel weekend appena trascorso un appuntamento all'insegna di riflessioni fra storia ed economia nel quale ha partecipato anche l'economista Stefano Zamagni che ha presentato il suo nuovo libro Prosperità Inclusiva la nostra Francesca Atricca lo ha intervistato sia in merito alla nuova pubblicazione sia al rapporto confidenziale che Zamagni ha con Papa Francesco in quanto consulente scientifico del Pontefice Tutto nasce dal presadatto di un paradosso parola greca che significa letteralmente sorpresa meraviglia e qual è la sorpresa? Che mentre a livello globale la prosperità è aumentata notevolmente nel corso degli ultimi 40 anni anno dopo anno la inclusività è diminuita e questo è qualcosa di paradossale perché uno sarebbe portato a pensare che se aumenta la produzione di reddito e di ricchezza anche il numero di colori i quali in forme diverse in proporzioni diverse ne traggono beneficio dovrebbe aumentare invece e diminuito ecco allora che il senso di questo libro è quello di dare le ragioni per cui questo è avvenuto e in secondo luogo rispondere alla domanda fondamentale che fare perché è chiaro che questa situazione non è sostenibile dal punto di vista né sociale né politico perché perché se aumenta l'area della non inclusione quello che succede è che la democrazia perde ed è quello che stiamo vedendo oggi c'è meno democrazia guardiamo anche la nostra Europa ma perché perché è la reazione di coloro i quali vedendosi esclusi e non inclusi reagiscono nelle forme che ben sappiamo non partecipando al voto nelle ultime tornate abbiamo visto il 50% non è andato a votare e questo pone un problema e in secondo luogo la nascita dei populismi sovranismi che sono evidentemente una reazione al fatto che l'inclusione anziché aumentare diminuisce ecco allora perché è importante porsi il problema e in secondo luogo trovare vie per vie di soluzione dello stesso professore ma lei è anche l'economista del Papa ecco raccontiamo qualche piccolo aneddoto oltre ovviamente ai discorsi gli approfondimenti che vi competono possiamo raccontare qualcosa magari di simpatico che avviene sono presidente da ormai quasi tre anni della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali che è una delle accademie pontificie che appunto si occupa di questioni sia economiche sia direi giuridiche sia sociologiche ed è chiaro che in quella veste tutte le volte in cui il Papa chiede un intervento cioè è richiesto di un intervento su argomenti di questa area chiede all'Accademia il conforto non tanto delle opinioni ma del fondamento scientifico di certe posizioni è ovvio che quando ci si trova Santa Marta io alloggio Santa Marta che è lo stesso edificio dove alloggi il Papa e il Papa quando non è in giro in visite varie soprattutto alla sera alle 8 lui scende per consumare il pasto della sera in mezzo agli altri quindi si siede a un tavolo quello che trova libero si prende il vassoio con cui va a servirsi ed è interessante perché in quell'occasione è molto facile ottenere e capire la personalità di questo uomo che ha la cui storia più o meno è nota ma che ha sempre a cuore un obiettivo e cioè dire il bene dell'altro allora in queste occasioni viene fuori la parte come ho detto più autentica di questo personaggio che non è un uomo di scienza teologica e filosofica come è stato il suo predecessore Benedetto XVI però lui ha questo carismo che qualcuno chiama della pastoralità lui riesce a integrarsi è il tipo che ti può chiamare al telefono di sera dicendo io sono il Papa senza intermediazione e lo fa non perché abbia bisogno di essere osannato eccetera anzi viene criticato per questo suo modo di fare ma lui dà testimonianza di cosa vuol dire mettere in pratica l'adesione a un certo a certi principi di fede questa era l'ultima notizia ma questa sera mi raccomando non perdetevi la prima serata di Rossini TV perché alle 21 e 20 entriamo nello spirito natalizio con l'evento dedicato al Natale che si è tenuto al Giardino di Santa Maria un evento che vi raccontiamo appunto questa sera e che vi mostrerà tutte le novità per questo Natale 2021 e poi vi ricordiamo anche di scaricare la nostra applicazione per essere sempre più vicini a noi tramite questa applicazione che è gratuita potrete seguire i nostri programmi in diretta ovunque voi siate potete segnalarci le cose che non vanno oppure rivedere anche la nostra produzione Grazie per averci seguito anche questa sera l'informazione su Rossini TV torna domani mattina alle 7.20 con la nostra rassegna stampa